Viene inaugurato il 12 settembre del 1970 in occasione della gara di Coppa Italia con la Massese. 4 a 1 il risultato finale con doppietta di Riva. Gol di Gori e Autorete dei Toscani. Quattro giorni dopo si registra il tutto esaurito con 70.000 paganti per l'esordio in Coppa dei Campioni contro i francesi del San Antonio.